È tempo di riaccendere i motori in casa Sandra Bate. Dopo aver chiuso il 2022 scintillante, la formazione di Piero Basile il prossimo 8 gennaio tornerà in campo per l'impegno in trasferta contro il Monastir. L'obiettivo è conservare il terzo posto in classifica, in chiave final hit di Coppa Italia e magari nei play-off. A ritorno in campo, Basile potrà contare su due nuovi innesti, Angelotta e Bizzoni, una doppia ciliegina sulla torta di chiusura Anna messa in campo dalla società verde-azzurra che ha lanciato un chiaro segnale alle dirette concorrenti del massimo campionato di Serie A. Il nuovo anno dovrà segnare la svolta definitiva dopo il finale Amaro arrivato lo scorso campionato con l'eliminazione da parte di Napoli. Fame di riscatto invece per la PSB Irpinia. La squadra, guidata da coach Luigi Battistone, ad oggi appena 11 punti in classifica nella prima apparizione del massimo campionato femminile. Moreira e compagni, al pari della Sandra Bate, scenderanno in campo il prossimo 8 gennaio per l'ultima gara del girone d'andata contro la Yugo Lazio, ad oggi a più 6 punti in classifica rispetto alle Irpine. Grazie a tutti.